E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Carissimi, bentrovati in questo nostro incontro Il cuore parla al cuore con il desiderio di scoprire la bellezza e la ricchezza della santità, della chiamata universale Il Concilio Ecumenico Vaticano II nel 1965 ce l'ha ricordato in un modo molto forte Tutti i cristiani in quanto battezzati sono chiamati a diventare santi Però ecco la strada che conduce a questo obiettivo non è così semplice da definire e sappiamo molto variegata Questi nostri incontri ci servono proprio per ricordarci la ricchezza, la varietà, la poliedricità Così si dice della vita cristiana che può coniugarsi in ogni stato di vita, in ogni situazione geografico, culturale In modi molto diversi e questa ricchezza della chiamata la santità si esprime passando attraverso un Come una lente di ingrandimento Che nella conoscenza delle onde elettromagnetiche si usano di solito quei corpi attraverso i quali un'onda luminosa si divide nei vari colori Proprio ieri ho avuto la bellezza della visione di un arcobaleno naturale che è una visione sempre originale Succede così che la luce si divide in tanti colori Ecco i colori della santità accadono attraverso, quando la vita passa attraverso il vaglio del Vangelo E in particolare c'è un testo nella Bibbia che è molto importante da analizzare per comprendere meglio di che cosa parliamo Qualcuno mi dice, Madonna, santità troppo alto, no? Questo progetto di vita non riesco a raggiungerlo Perché essere santi, chi può essere santo? Poi qualcuno ci scherza, è un'espressione La parola santo è una parola che non apprezziamo molto, riferita a persone normali Perché come ci diceva già Giovanni Paolo II e appunto anche Papa Francesco nella sua lettera Gaudete ed Exultate La parola santità spesso è vista come in contrasto con la vita quotidiana In realtà gli incontri che viviamo ci aiutano a capire come anche persone così della porta accanto Persone che magari qualcuno addirittura ha conosciuto e sono ancora appunto in vita I testimoni hanno già percorso questo cammino di riconoscimento anche ufficiale pubblico della Chiesa Ma sono solo alcuni esempi, tanti, tanti uomini e donne si sono cimentati e si cimentano In questo esperimento di vita, no? Passare attraverso il Vangelo Come una luce che, un fascio di luce che è una luce apparentemente che è trasparente Attraverso il Vangelo può diventare una luce colorata Un arcobaleno di tanti colori e scomporsi in tante sfaccettature Così anche il testo appunto che vogliamo affrontare oggi e probabilmente anche la settimana prossima Vi propongo due spunti di riflessione a partire da uno dei brani più famosi della Bibbia cristiana Ed è il Decalogo, chi è che non conosce quello che letteralmente significa le dieci parole Dieci sono le parole che Dio ha consegnato a Mosè sul Monte Sinai Ma forse non tutti si ricordano o sanno che Gesù stesso nel Vangelo di Matteo ci viene riportato Questo lungo discorso, detto il discorso della montagna, riprende il Decalogo Riprende queste dieci parole che noi appunto sappiamo risalire alla tradizione di Mosè E le reinterpreta, le approfondisce, le riconsegna in un certo senso al popolo di Dio Già la ricchezza di questo testo è esplicitamente sottolineata dal fatto che nella stessa Bibbia, nella Bibbia ebraica, nella Torah Le dieci parole ricorrono due volte, sia nel libro dell'Esodo che nel libro di Deuteronomio Che sappiamo dei primi cinque libri della Torah appunto rappresenta una rilettura già dell'Antica Alleanza E sigillata appunto sul Monte Sinai, come ricordate il quadro classico di Mosè che scende dal monte con le due tavole Ricordate appunto sono dieci le parole, nella tradizione cristiana cattolica non sono divise equamente in due tavole Mentre nella tradizione ebraica sono proprio cinque e cinque in ognuna delle tavole Perché le prime cinque parole che noi numeriamo in un modo diverso riguardano appunto i doveri tra virgolette nei confronti di Dio E le seconde cinque invece riguardano i doveri nei confronti del prossimo Nella numerazione cristiana appunto che è maturata poi alla luce anche del discorso della montagna di Gesù Di solito siamo soliti accorpare i primi due comandamenti della numerazione ebraica Fino al comandamento sull'onore il padre e la madre in una prima tavola Mentre dal non uccidere fino al non desiderare sono gli altri sei comandamenti nella seconda tavola che riguarda il prossimo Scritti col dito di Dio sulle tavole di pietra le dieci parole Dieci parole dalle quali nasce certamente la tradizione intera dell'alleanza tra Dio e Israele E nelle quali possiamo leggere anche la vita di Gesù Così come nello stesso discorso della montagna Gesù in quella poema preghiera iniziale che è il discorso delle beatitudini appunto Racconta chi sono i protagonisti del regno dei cieli di cui lui è venuto a portare la buona novella Ma in realtà questi protagonisti vengono descritti con parole, miti, affamati di giustizia, misericordiosi, puri di cuore Che innanzitutto si addicono a lui stesso È lui Gesù il primo dei beati, della beatitudine del regno dei cieli E così anche le dieci parole Gesù le rilegge alla luce di quello che è la sua esperienza La sua esperienza di vita che tutto il ministero, tutta la sua spiegazione Sia a parole con i suoi insegnamenti che con i gesti che compie Si riassumono in questo essere Gesù il primo Il primo, il primo genito dice la scrittura Il primo a compiere certi gesti E in particolare come vi dicevo vogliamo soffermarci su una caratteristica Di Gesù che riguarda una di queste dieci parole e poi la settimana prossima guarderemo anche l'altra Perché queste due caratteristiche che sono state scelte rispetto agli altri comandamenti? Sento l'esigenza di aiutarvi a capire quanto concreto è questo indice di rifrazione Nell'esperienza quotidiana della vita dei santi, della vita di santità Su due esperienze che toccano tutti Toccano tutti perché il primo comandamento che ho scelto Che nella numerazione cristiana è il settimo Mentre nella numerazione ebraica è l'ottavo E recita così, è molto semplice Non rubare Non rubare, uno dice Non rubare riflette quasi un'esigenza della vita civile Sappiamo che questo precetto trova un suo corrispettivo anche nelle legislazioni di tutti i popoli e di tutti i paesi Ma noi possiamo pensare che questo comandamento si rivolge alla vita cristiana In un modo molto ampio, molto più ampio di quello che possiamo immaginare Pensate che nel catechismo che quest'anno compie dieci anni Un catechismo che fu pubblicato dal curato, dal cardinal Schomborn Allora vescovo di Vienna E voluto fortemente da Benedetto XVI Questo catechismo per i giovani Nella sigla Yucat Questo comandamento non rubare occupa tante domande e tante risposte E che toccano tanti argomenti Pensate no? Il primo argomento su questo comandamento Non rubare Tocca proprio il rapporto con l'ambiente Pensate un po' E con la socialità Come dobbiamo comportarci di fronte alle proprietà degli altri E uno dice va bene la proprietà La proprietà è il possedere qualche cosa Sì, ma al giorno d'oggi sappiamo che c'è anche la proprietà intellettuale Esistono i diritti d'autore Esistono anche le immagini Pensate a tutta la questione Della divulgazione Di immagini o anche di notizie Che riguardano una persona Di fatto il non rubare Dice il catechismo È un comandamento che tocca anche le relazioni sociali Addirittura c'è una domanda che potrebbe stupire Cosa dice la Chiesa sulla democrazia? E questo è uno spunto Che parte appunto da questo atteggiamento Del non appropriarsi Di ciò che non è esclusivamente proprio Il bene comune per esempio Il bene comune di una famiglia Di una comunità locale O di una nazione intera Come può essere amministrato? Cosa significa che ciascuno Deve essere attento A non fare proprio Ciò che è di altri Perché è chiaro che Impossessarsi e utilizzare Cose che sono di altri Senza che magari Le altre lo sappiano O senza che possiamo presumere Che uno ci sia d'accordo Su questo utilizzo Mette già in questione Questo comandamento Capite allora che L'interpretazione che il catechismo Dei giovani ci dà È un'interpretazione che ci aiuta Ad approfondire Addirittura una domanda Su cosa pensa la Chiesa Della globalizzazione Che cosa significa Per noi la realtà della povertà Quali atteggiamenti Sono gli atteggiamenti cristiani Nei confronti di chi vive L'esperienza della indigenza Tra l'altro nella risposta Molto bello che il catechismo Dei giovani Ricorda quella beatitudine Di cui parlavamo prima Beati i poveri In spirito Perché di essi È il regno dei cieli Chi sono? Quando un cristiano Sente dire la parola povero A cosa pensa? Pensa a coloro Che erediteranno la terra A coloro che Partecipano alla beatitudine Di Dio E' chiaro che questa espressione È un'espressione Che suscita tante domande Come? I poveri Sono da aiutare Certamente I poveri La povertà È una condizione Da combattere Ma ecco Come può porsi Un cristiano Di fronte all'idea Di chi combatte La povertà Quando La povertà È anche Un elemento Di distinzione Del cristiano Quindi è un nemico O è qualcosa Da promuovere Ecco allora che Capite che se noi Approfondiamo L'esperienza Quotidiana Del cammino Di un Di una Di un cristiano Che desidera Desidera Vivere Secondo il Vangelo Non possiamo Ignorare Che questo Comandamento Non rubare È un comandamento Che tocca Il cuore La coscienza E la vita Di ciascuno A partire Proprio Dalla esperienza Più Pratica Della 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 famiglia Quando I bimbi Fra di loro Si rubano I giochi O Diventati Adolescenti Si rubano Le felpe O I vestiti Ecco A volte Capitano Una cosa È di tutti E quindi In quanto di tutti Appartiene a tutti E ciascuno Può appropriarsene Ma Che cosa Significa Questo Che cosa Significa Avere Un rapporto Equilibrato Con i beni Nella misura In cui Riusciamo A trovare L'equilibrio Tra Quella che L'ha chiamata L'essere Poveri E la chiamata Ad essere Giusti Ecco Il Papa Benedetto XVI Ha voluto Fortemente Che dentro A questo Paragrafo Sul Comandamento A non rubare Fosse coinvolto Anche tutto Il discorso Sulla giustizia Giustizia sociale Appunto Giustizia Economica Giustizia Che appunto Tocca i diritti Di ciascuno Per Mettere Il seme Del Vangelo Dentro A questa Questione Che è una Questione Che non si Può Concludere Semplicemente Capite che Cosa vuol dire Appunto Che c'è Una tensione Tra L'identità Del cristiano Che è chiamato A vivere Poveramente Con povertà Secondo Come diceva San Francesco Sposando Madonna Povertà E dall'altra Parte invece Il cristiano Che è chiamato A lavorare Perché tutti Possano vivere Un'esperienza Di giustizia E vedere Riconosciuti I loro diritti Questa è una Dinamica Di tensione Osservare i comandamenti Di Dio Non significa Semplicemente Limitarsi A non Infrangere La legge Uno dice Vabbè Io non rubo Perché Oggettivamente Nella mia vita Magari non ho mai Avuto occasioni Per farlo Oppure Cerco di essere onesto Certo Questo è un atteggiamento Giusto Ma non è tutto qua Il cammino Della vita Cristiana È un cammino Che affronta Anche altre questioni Come per esempio Appunto Il rapporto Con l'ambiente Papa Francesco Ce l'ha ricordato Di recente Tante volte È un esempio Più È forse l'esempio Più eclatante Di un bene comune L'ambiente di tutti L'aria L'acqua L'uso dell'energia E certamente L'uso di questo Bene Che è di tutti Mette tutti Dentro A quest'unica responsabilità Del condividere Del sapere Anche vivere In modo sobrio E al tempo stesso Di rispetto Ma anche di gioia Nel creato Perché Che le creature Il mondo stesso Sono tra le nostre mani Perché sono un dono di Dio Sono un dono che possiamo utilizzare Ecco allora capite che Da quello che può essere Un semplice comandamento Nasce Una pioggia di riflessioni E di approcci E' bello che Il catechismo appunto In questo capitolo Sui dieci comandamenti Nel paragrafo Che tocca proprio La Il settimo condimento Il non rubare Ci presenta anche Una preghiera Tratta dal salmo 65 Che vogliamo fare nostra Nella consapevolezza Che Ciò che Dio ha creato È di tutti E che la vera condivisione Non è quella Di chi si disinteressa Dei beni degli altri Ma È l'attenzione Del dover condividere Ogni giorno E ricontrattare Questa condivisione E Porre Confini Che non siano Delle barriere Ma che siano Dei ponti Che ci collegano E allora preghiamo insieme Con il salmo 65 Tu signore Visiti la terra E la disseti La ricolmi di ricchezze Il fiume di Dio È gonfio Di acque Tu prepari Il frumento Per gli uomini Stillano i pascoli Del deserto E le colline Si cingono Di esultanza I prati Si coprono Di greggi Le valli Si ammantano Di messi Gridano E cantano Di gioia Ecco la gioia La gioia Della sobrietà La gioia Del dono Per riconoscere Che tutto quello Che abbiamo Prima di essere nostro È dono di Dio Puro è il tuo sguardo Ed umile Il tuo cuore Protegga il nostro popolo In cammino La tenerezza Del tuo vero amore Puro è il tuo sguardo Protegga il nostro popolo In cammino La tenerezza Del tuo vero amore Per riconoscere Per riconoscere Grazie a tutti